buongiorno salone nautico di puglia siamo qui allo stand sky surfaces flight academy si nautica volo motori questa è una bella fiera c'è un po di tutto terra aria mare c'è il mare c'è l'aria qui c'è l'aria dietro di noi siamo una scuola di volo giovane aperta da diciamo a brindisi da un annetto e siamo pronti già stiamo comunque facendo dei corsi per i neo piloti del futuro quindi adesso siamo qui per pubblicizzare ancora meglio la nostra scuola e quello che offriamo scuola a chietà si può venire che cosa bisogna fare siamo da 16 anni in su non c'è limite superiore d'età perché comunque bisogna passare una visita medica quindi non c'è limite cioè finché il cervello funziona spopolare sono ragazzi più o meno le classi sono formate da ragazzi giovanissimi appena usciti dalle scuole comunque che stanno ancora frequentando le scuole comunque professionisti e gente che vuole fare questo mestiere ma è un classico brevetto di volo o c'è qualcos'altro dietro è un brevetto di volo che inizialmente ti permette di pilotare aeroplani diciamo piccoli però non ha limiti perché alla fine si può pilotare anche il 747 da questo tipo di licenza che noi possiamo offrire. Allora la cosa che stiamo notando in giro a questo Salone Nautica è che c'è un cambio generazionale voi siete un altro esempio di come i giovani si stanno facendo avanti con iniziative nuove giusto? Esatto sì. Mediamente i vostri travi non so se chiamati tutor professori o istruttori che età hanno media? Hanno una media di 30 anni 35 anni ore volate? Dalle 1500 a in su insomma non c'è. E sono tutti professionisti che ovviamente volano tutti i giorni. Esatto sono professionisti che hanno anche un doppio lavoro magari fanno pilota di linea fanno piloti di Canada e poi insomma c'è chi come secondo lavoro applica le proprie conoscenze alla scuola di volo. In meno di un minuto che cosa possiamo dire a un ragazzo per venire da voi e provare questa esperienza e capire meglio cosa sta dietro a Sky Services? Innanzitutto il volo è sempre qualcosa che ha affascinato tutti grandi piccoli indistintamente e Sky Services in più rispetto alle altre scuole qualcosa di nuovo di fresco aeroplani nuovi soprattutto e personale nuovo quindi di sicuro chi viene nella nostra scuola avrà divertimento professionalità e comunque la passione da parte dei figli. Sì ma mi stai dicendo tante belle cose ma dove vi troviamo? www.facebook.it Noi siamo ovunque, siamo su Facebook, abbiamo il sito di skyservices.it e in ogni caso abbiamo una sede principale che è in Napoli però abbiamo su Brindisi la sede di Brindisi dove abbiamo la nostra scuola principale dove facciamo attività. Come ci si saluta? Come ci si saluta tra persone che volano? No non c'è un saluto vero e proprio però diciamo è come augurare buon vento a un marinai. E come si dice? Non si può dire. E perché no? I marinai dicono in culo alla balena eccetera. Voi come dite? Happy Landings. Happy Landings. Va bene allora tanti Happy Landings a voi di Sky Services e grazie del vostro contributo. Mi autorizza pubblicare questo su Roads of Puglia? Grazie.